Il trento regionale 19398 di Prenitalia, proveniente da Sardana e direttore all'aspetto centrale periore 17 e 17, tema di cotabinario 4. Attenzione a lontanarsi dalla linea gialla. Il trento regionale 19256 di Prenitalia, proveniente da Sardana e direttore all'aspetto centrale periore 17 e 17, tema di cotabinario 4. Il trento regionale 19256 di Prenitalia, proveniente da Sardana e direttore all'aspetto centrale periore 17 e 17, tema di cotabinario 4. Il trento regionale 19256 di Prenitalia, proveniente da Sardana e direttore all'aspetto centrale periore 17 e 17, tema di cotabinario 4. Il trento regionale 19256 di Prenitalia, proveniente da Sardana e direttore all'aspetto centrale periore 17 e 17, tema di cotabinario 4. Il trento regionale 19256 di Prenitalia, proveniente da Sardana e direttore all'aspetto centrale periore 17 e 17, tema di cotabinario 4. Il trento regionale 19256 di Prenitalia, proveniente da Sardana e direttore all'aspetto centrale periore 17 e 17, tema di cotabinario 4. Il trento regionale 19256 di Prenitalia, proveniente da Sardana e direttore all'aspetto centrale periore 17 e 17, tema di cotabinario 4.